Altro logo di agon testa di buio principio, l'Università di Gorsing, andiamo a redderemo Pierrick Nanini, saluta boi, siete in diretta, come state accolta stamane a noi dice il mondo studianti? L'Università è spinta, non si è visto quasi manco studente, né un professore, né un personale amministrativo da boi stamane, allora se non dice se tutto il mondo l'aveva in mente, nemmeno si aspettava ciò che la gas che erisera, usa lo cambiamento oggi che l'Università è stata bloccata, così che hanno dirigito i sindicati studiantini e fatti stanotte, e non c'è avvicinato la facoltà di diritto, si può non leggere i nuovi messaggi scritti stanotte, come Gloria a te Ivan, o anche uomo di valore e pastore d'onore, a Kant fermano sempre a piccato striccone, con scrittura stato francese assassino, ecco, Vrederic Pelambio stavano in corte. Vrederic, se i sindicati studiantini diranno l'origine di manifestazioni, in che modo a oa sannacchulli e ladoni da pezzi brossimi orni, se isa con antra manifestazioni di previsita, pedi Lavranca, c'è un risico o no di un ridorno a iulenza in kerudio? Allora, Vrederic, per ora è un tempo di udolo, una uedia stasera da stonde è prevista e organizzata in corte dai sindicati studiantini, e di nuovo, a un mando che è stata avata da Vamia di Vankolonna, pebbia di Soaogadi, riserva di rispettare il udolo, un tempo di udolo che dovrebbe suspender tutte le emozioni e le mobilizzazioni politiche, e giusto appunto era prevista stasera una coordinazione in corte, una coordinazione nazionalista, stada di segura annullata, deve advenire e analisa le modali d'azione, le modali di azione, le riserva che sono state mosse davanti ai breveturi di Bastia e d'Ajaccio, se parla di noi è detto di una manifestazione possibile in Ajaccio, ma per ora, secondo la nostra informazione, non è più a l'ordine di Uyaor, non è un po' di, dico, quello di noi di l'analisi di ebro bocht e vat da Gérald Damanen, o Ministro di l'Interno, la Chabiatse, a oa, a quello di udolo.